Sono arrivati! Le figurine Amici Cucciolotti 2012 con l'album delle meraviglie! Ci sono anche le nuove speciali figurine trasparenti che puoi attaccare sull'album o dove vuoi tu! Ogni bustina è sempre diversa! L'unica cosa che non è cambiata è il prezzo! Corri in edicola! Con le prime due bustine c'è l'album in regalo! E quest'anno partecipi all'adozione a distanza di 3500 trovatelli accuditi nei rifugi della protezione animali! Amici Cucciolotti! Il gioco più sicuro, fatto col cuore! Pizzardi Editore! Attenti ai copioni! Pizzardi Editore!